Ciao sono Gianni95 e oggi ci troviamo su Rolling Sky Allora, praticamente nello scorso episodio eravamo rimasti a questo livello qua Che è la parte 5 del campionato Ci sono 6 parti del campionato Adesso la sesta parte probabilmente sarà la parte più difficile La quarta abbiamo avuto una certa difficoltà Ma oggi voglio continuare ad andare avanti Sto registrando molti video di Rolling Sky Perché da telefono ci sono due serie che sto portando avanti Rolling Sky e Tranquilo 2 World Rolling Sky ho un sacco di vite da parte Quindi riesco a fare più tentativi e quindi ad avanzare di più E ho voglia di registrare E quindi voglio registrarvi questo video qua Poi sarete voi a decidere se vi interessa o meno o quant'altro Io voglio comunque concludere tutte le serie che vi porto sul canale Poi se ci sono qualche serie che ho lasciato di sospeso Poi dipenderà in futuro Questo si Perché poi ci sono tante serie che mi avete chiesto E io vi devo cercare di soddisfare i vostri desideri Se così si può dire Questo video comunque penso sarà uscito dopo lo speciale 900 iscritti Che io vi ringrazio ancora di aver raggiunto In questo video saluto DanScr Se non ho detto male E direi di andare avanti per non perdere troppo tempo Come ho detto nello scorso video Oggi faremo il livello 5 e il livello 6 Se possibile Vorrei riuscire a fare questo E poi dopo provare il prossimo livello Quello della prossima zona Quello senza... cioè non c'entra quel campionato È un livello che c'è dopo Ho già visto che livello è Diciamo stile calcio Quindi se vi piace il calcio Come a molti piace Quel livello vi dirò il piacere Poi non lo so come sarà la musica E penso che sarà bella Ma direi di non perdere tempo Andiamo avanti Comunque la freccia lì rossa che vedo lì davanti Secondo me Mi fa fare uno scatto piccolo Come nel scorso episodio invece c'era la freccia gialla Che fa fare uno scatto grande C'è uno slancio più Più lungo Dipenso E infatti Attenzione questi qua Ecco Stavo dicendo No non sono Gesù inutile Ogni volta qui mi propone di ritornare ma Eh non ti spostare così Ah ok prendo la molla e poi prendo la freccia Ok capito capito 22% dai ce la possiamo fare Non è vero Non ce la faremo mai 5% Ok 29% Sono corti ma sono difficili Io preferisco quelli Io preferisco quelli lunghi ma sono un po' più facili Sono difficili perché ti devono impedire di arrivare al traguardo Eh infatti Quella freccia mi da problemi Anche loro mi danno problemi No non so se si era notato eh Perché può darsi che non l'abbiate notato Ora forse l'avete notato Ehm Va bene Però con la freccia mi Non lo so E' complicata con la freccia eh Ok Va bene Non ci muoveremo da qua manco Ho già sprecato 10 vite Per lo meno Praticamente Ah 40% E' che quando non raggiunge quel punto lì Ficché non lo raggiunge non sai cosa fare Certo però Se mi mettete informazione Da chiudermi va bene va bene Va bene perché sono Rugby quindi è normale però Però non è normale che io non riesca a passare a questo livello Quasi quasi ve lo taglio eh Faccio vedere che l'ho passato perché Non si può andare avanti così Come faccio? Guarda Mi spedisce in orbita Non ce la faccio E' buggato E' buggato? Mi dice che è buggato? Mi confermate che è buggato? Forse si Non posso andare avanti così Niente no Ve lo taglio perché sennò muoio 20 volte nello stesso punto E nel video Risulta brutto Quindi ci vediamo dopo Dopo due secondi Ho ripreso Non ho finito il livello ma ve lo faccio sempre a voi perché ho capito come ci sono le frecce Adesso farò la figuraccia sicuro che non ci riuscirò ma Ecco sapevo No vi giuro ho capito come si fa Niente Cos'è che ho capito? Ecco vedi? L'ho fatto Praticamente devo switchare sulla molla E poi tornare indietro Cioè io giro nella direzione opposta Io ho capito così Poi Vedi che si fa? Vabbè era per spiegare questa cosa Adesso Rimettiamo in pausa e ci vediamo dopo Vedete ce l'ho fatta E' riuscito come potete vedere Il diamante che ce ne frega sinceramente Non è impossibile Ho fatto Iscritti ho fatto un livello veramente orribile L'ho passato al primo colpo Da 50% di quello non ho più sbagliato Però c'era la roba allucinante Se volete vederlo poi probabilmente lo potete vedere da altri che non fanno il commentary Però io non saprei rifarlo Vi giuro Andiamo a livello prossimo Ma ti prego Ecco fai a livello prossimo Che questo non lo voglio più vedere Non fammelo più vedere Ecco livello Livello 6 Che è l'ultimo della zona Speriamo di non morire Altrimenti il video 6 era pure questo Cos'è nella vita? Comunque 19% Sì Sì vabbè dicono 24% Pian piano andiamo avanti Sì In mezzo In mezzo Lato No Com'è che devo fare quella parte? Me lo spiegate? Ho già perso 30 vite 20 25 vite Ok l'ho fatto Ok l'ho fatto Però c'è un altro Ci sono Ci sono Che Cheerleader Delle volte non so parlare Quindi Scusatemi Secondo me devo stare Prima A destra E poi a sinistra Devo switchare Da una parte all'altra Credo eh Qui stiamo di qua Qua stiamo di la Non è vero Non è vero Non devo stare così C'è quello in mezzo che non riesco a farlo 39% Questo l'ho imparato Ok? Dovevo praticamente fare lo slalom Quella in mezzo A caso l'ho fatto eh Non è che lo so Non è che so le cose a memoria Sto dicendo che ve lo sto facendo Proprio A prima Reaction Non nemmeno io so cosa sto facendo Oh eh Fermati No Devo stare in mezzo Non ce la faccio Perché mi sposto il terreno Non vedo più niente Io Non ce la posso fare Vi prego Supportate Lasciate un like Perché non è possibile Dove sono passato Lo so solo io Perfetto In mezzo Lato Lato Cos'è questa stella in mezzo Cos'è questa stella in mezzo Cos'è questa stella in mezzo Con un pallone da rugby che gira Cos'è Cos'è sta roba Cos'è 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 sta roba Manco Manco il livello troll Così Aspetta Quando lo so fare Lo so fare Non lo so fare Niente 65% Non lo so Bello Bello Allora io vorrei farvi Questo livello E provare quello dopo Provare a vedere com'è Ma non ci riesco Che brutta cosa Ma che brutto Niente E io mi dimentico Che devo fare lo slalom Io devo fare lo slalom Non è possibile Allora La musica è alta per me Ma forse per voi è giusta Spero Ok No 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 Non è vero Dov'è che devo atterrare Che non lo so 69% Stiamo Farmando Percentuale È un casino Non so dove atterrare Non so dove andare Ora so dove andare Però Sono morto Perfetto Quante vite ho perso Troppe Devo farmare vite Devo farmare Eh Vabbè Che noia Farmare le vite Non potete capire Non potete capire Quanto sia difficile farmare le vite Ci vuole un sacco di tempo 12 vite al giorno È troppo 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 Niente Perché io ero Focalizzato sul fatto che dovevo andare a sinistra Però l'ho fatto troppo presto Quindi dovevo andare prima in mezzo Poi a sinistra Aspetta Perché sono l'unico deficiente che sta facendo il suo gioco L'ottantadue per cento ero quasi arrivato Ci sono ancora quelle la in fondo quindi sono sicuro che mi daranno problemi Però fino fino ad arrivare la abbiamo capito come si fa Le C leader Le C leader Posso mettere il titolo C leader? No no la stella finale La stella Avevo fatto tutto quanto Ma perché 97% Che brutto morire alla fine Che brutto Eh adesso non ci Adesso non ci Adesso non ci Non so già che non ci ritornerò più Scusa Non è che ve lo devo dire io Scusa Dai Concentration mode Attenzione Proprio lui si concentra Ve la porta a casa La vince La vince Eccolo lui La schivata finale Eh ho schivato ho fatto 12 a 6 Livello Come livello prossimo E non sei i livelli E non sei In quanto le azioni di aver finito i 6 mini livelli Livello completato al 100% Ok 100% Quindi non devo Cioè questo non devo farlo Non devo farlo questo Dice che non devo farlo Come Come 0% Scusa l'ho fatto 6 livelli ho fatto Perché adesso mi dice 0% ancora Non lo so E io vorrei farvi vedere campo da calcio con me Vorrei farvelo vedere Però Siamo già a 13 minuti Quindi Fatemi abbassare l'audio Perché è troppo alto Ok Siamo già a 13 minuti Quindi non voglio dilungarmi troppo E se no il video vi annoia E tutto quanto Abbiamo finito il campionato Perché adesso poi Off camera Me lo andrò a vedere Vedrò come funziona Perché è 0% Non so perché Mi ha scritto 100% Quindi non so per quale motivo Il prossimo è campo da calcio Quindi nel prossimo episodio Se vi piace il calcio Questo livello vi dovrebbe piacere di più A me è un po' meno Perché devo farlo io Devo giocarlo io E mi farà schelerare un pochino forse Quindi va bene Se questa serie vi sta piacendo Questo video vi è piaciuto Come solito vi chiedo di lasciare un bel like Commentare per essere salutati E per darmi la vostra produzione Per farmi sapere che avete visto il video Iscrivetevi al canale se siete nuovi Condividete in giro per aiutare il canale a crescere E noi ci vediamo nel prossimo video A presto